Ha ringraziato gli organizzatori per poi rivolgersi direttamente ai ragazzi. Un abbraccio e l'auspicio di crescere felici e consapevoli in un mondo che sia davvero sempre più bello e più giusto. Con questo messaggio la senatrice a vita Liliana Segre ha commentato la consegna del premio Giffoni 50 che le è stato assegnato dal Festival del Cinema. Un riconoscimento che ha commosso ed emozionato il direttore Claudio Gubitosi il quale ha sottolineato le parole di speranza e bellezza di Liliana Segre in piena sintonia con lo spirito di Giffoni. Da Kermess intanto va avanti. Presso la cittadella del cinema uno degli ospiti più attesi è stato il professore Paolo Ascierto, protagonista della lotta contro il covid. Alla platea dei ragazzi a corsi nel comune salernitano è stato mostrato in anteprima un estratto del docufilm dedicato proprio all'Uminare. Uno sguardo a 360 gradi a cura del regista Romano Montesarchio sull'uomo Ascierto, padre ma anche appassionato tifoso di calcio e di musica. Ricca, come sempre, anche la carrellata di ospiti. Guardare gli occhi di questi ragazzi, guardare voi, ma dove ritrovo un entusiasmo così? Io voglio vivere tutti gli anni, ragazzi. Voglio creare il mio muro e farvi vedere chi sono davvero. Quindi grazie, sono emozionatissima Grazie. Grazie.